Secretario, quali sono stati i motivi che mi hanno portato a riunirvi oggi qua da Grigento? Noi oggi abbiamo fatto questa assemblea per fare chiarezza nel mondo dei dipendenti regionali perché vi sono tutta una serie di problemi che interessano la loro vita lavorativa che evidentemente hanno generato grandissima confusione tra gli operatori stessi. Quindi oggi la riunione è una riunione per spiegare ai lavoratori quello che sta accadendo nel mondo della regione siciliana per affrontare uno per uno i problemi che abbiamo in corso di discussione e quindi per portare quelle che sono le proposte della UIL ma anche per sentire da lavoratore eventuali proposte da valutare e da portare avanti. Poi avremo una serie di problemi da discutere per quanto riguarda per esempio i criteri per afferrare gli incarichi ai dirigenzi, la vigedirigenza, le problematiche del corpo forestale. Come potete capire questa è un'assemblea molto corposa che si prefigge appunto come dicevo inizialmente quello di fare chiarezza e consentire ai lavoratori di avere quelle conoscenze necessarie per poter portare avanti i completi istituti.